Un impegno ad assumere come priorità la stesura di una nuova pianta organica e l'impegno ad incontrare il commissario Redigolo per un'ulteriore proroga. È forse il massimo risultato che i sindacati confederali e Cobas e i lavoratori precari dell'Asli Pescara potessero strappare nell'incontro con il nuovo manager Claudio Damario che nel suo primo giorno di lavoro ha accettato l'invito a partecipare all'assemblea dei lavoratori nella sede della direzione generale. È una corsa contro il tempo, tra quattro giorni scadono i primi contratti di 45 operatori EDP che non saranno rinnovabili, salva l'eventualità di una proroga su cui però la ASD non ha l'ultima parola. Il mio è un impegno morale perché qualsiasi attività in regime di prorogazio deve essere comunque autorizzata dal commissario d'acta. Il direttore generale invece deve fare una programmazione aziendale a meglio e lungo termine per inserire elementi di grande stabilità. I sindacati che domani tenteranno di incontrare nuovamente Redigolo e l'assessore Venturoni sottolineano come l'unica via di uscita sia quella di una ulteriore proroga ma stavolta finalizzata all'indizione di concorsi alla luce di una nuova pianta organica. Noi riteniamo che sia necessaria una soluzione ponte che dia la possibilità nel frattempo di avviare procedure concorsuali probabilmente anche in forma riservata per dare sicurezza e per dare un futuro a questi lavoratori che sono precari ma non sono precari di breve periodo. Sono precari di lunga data alcuni dei quali addirittura sono qui prestano servizio nell'Aso di Pescara da 8-10 anni. Anche il manager sottolinea solo la stabilizzazione è una garanzia per l'efficienza dei servizi e la funzionalità dei reparti. Non possiamo dare né a livello di personale amministrativo quindi di interfaccia con l'utente dal punto di vista di quello che può essere la fruibilità di alcuni servizi soprattutto ambulatoriali dove l'utente amministrativo gioca un ruolo strategico e soprattutto non posso dare a dei colleghi che devono gestire un reparto, un'unità clinica situazioni sicuramente poco stabili. Significerebbe veramente rischiare. Anche io non voglio più episodi che sono verificati nel passato. Procedure, interfacce di responsabilità e soprattutto voglio attivare un meccanismo virtuoso della qualità a tutti i livelli. Un giudizio condiviso dal sindacato. Stavolta mi pare che il clima sia cambiato, mi pare che da parte del direttore generale ci sia una forte volontà di mettere le mani nella sanità pescarese, di definire la pianta organica, di stabilire le vacanze e gli esuberi per fare in modo che l'intero sistema possa riprendere a funzionare correttamente ed efficacemente.